. Loredana Lecciso ha sbagliato tutto, Romina non ha colpe, ecco chi l'ha detto. Romina Power è tornata al centro dell'attenzione mediatica per la recente intervista rilasciata al talk show di Maurizio Costanzo. . La cantante ha fatto delle dichiarazioni clamorose sull'ex marito Albano affermando di provare ancora amore nei suoi confronti e che il loro legame non si spezzerà mai. La prima puntata del nuovo ciclo dell'intervista ha ottenuto un grandissimo successo di pubblico, infatti è stata seguita da circa uno milione e mezzo di spettatori e quasi il 18 di Cher. Il giorno seguente, a mattino 5 si è tornati a parlare della Power e l'ex showgirl Lori Del Santo ha preso le sue difese. Conscia detto? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutti i particolari. . L'intervento di Lori Del Santo a mattino 5. Federica Panicucci, dopo aver mandato in onda un filmato riassuntivo dell'intervista fatta a Romina ha aperto un confronto con i suoi ospiti. . In collegamento da Roma c'erano l'opinionista di Forum turchese Baracchi e il giornalista Luca Giurato che recentemente ha criticato il comportamento di Albano. . A Cologno Monzese, invece, oltre alla conduttrice c'erano l'ex bieffina Augusto De Megni, Marco Balestri, la direttrice di Diva e Donna Silvana Giacobini e Lori Del Santo. . E' proprio quest'ultima che ha difeso la cantante statunitense dando delle colpe a Loredana Lecciso. . In tutta questa faccenda è Loredana che ha sbagliato tutto, non ha capito che Albano dopo la prima felicità, andava verso una certa età e voleva serenità e felicità che l'ha cercata per tutta una vita. . Lei giovanissima piena d'esuberanza, attenta al loop magari ha trascurato un uomo che ha una precisa matrice che ora può renderlo felice e quindi non si ritrovano più. . Non ritrovandosi più, automaticamente i ricordi ritornano ma non è che Romina abbia fatto qualcosa di speciale per riconquistarlo, lei non ha colpe, ha dichiarato l'ex subrette di Drive-In. . . Albano e Romina insieme in Austria. . E mentre certe trasmissioni continuano a parlare del triangolo amoroso, la storica coppia è volata in Austria per promuovere il prossimo concerto che si svolgerà nei primi giorni di giugno. . 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